Buongiorno a tutti da Yavon99 Come potete vedere cosa c'è davanti a noi un Macbook Pro Allora, vi faccio solo l'unboxing perché se no sono con l'iPod di cercare la memoria piena Perciò se no unisco tutta la memoria Perciò vi faccio una piccola unboxing e vi faccio vedere com'è la scatola Allora, partiamo subito Il senso è il Macbook Pro ovviamente 13 pollici Qui c'è la foto di Mac chiuso Poi è la parte Yavon, logo Apple La parte sopra è la maniglia Con tutti i dati del nostro Mac Poi da questa altra parte Troviamo, c'è scritto veramente tutto alluminio Processore Intel Dual Core E poi Thunderbird Ora c'è la cosa sua Poi qui nell'angolino Scritto Apple Mac ovviamente Nella parte retro Troviamo il nostro Peso un quintale a questa borsa Il nostro bellissimo Macbook aperto E basta Allora Giriamo una scatola Peso un quintale Lo apriamo Tagliando questa plastica Qui abbiamo già tagliata E lo apriamo E lo apriamo Qui nella scatola troviamo Tipo Dei penno Penno sciuarlo Poi Troviamo questa cosa che lo protegge Agli urti Agli urti Buttiamo tutto via Eccoci Sarà impossibile prenderlo No Aiuto Troviamo la scatola Troviamo il nostro Benissimo Macbook Implasticato Dentro questa plastica Qui troviamo La linguetta Pettirello su Sotto Disco 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 Di qui E poi Ripetti Non ci interessa Questo È chiuso Poi Qui Dobbiamo ora Prova a mettere Il filo dentro Però è impossibile Rimettere Come ho messo L'Apple Carriabatterie Logo Apple Con Presa Italiana Ripesso Tutti i fili Carriarlo Questo è lo spinotto C'è lo metto a fuoco Anche questo in metallo Magnetico Facciamo solo appoggiarlo Si attaccherà Poi In questo Piccolo Cartone Ci troviamo Da quanto mi ricordo Che è un po' difficile fare tutto Troviamo Sempre L'attacco Per quella presa Soltanto c'è Per Come si chiamano Non delle prese italiane Se li entra Però a noi non ci interessa Ovviamente Perché siamo In Italia Qui c'ho questo Cattolettino Non si aprirà mai Così si chiama All Mac Allora Sarà impossibile Levare La plastia Con l'iPhone in mano Però Proviamoci È già stata aperta Ovviamente Lì c'era Iscritte Si apre tirando qui E poi Ora sarà Impossibile Forse ce la facciamo Ecco fatto Ecco il nostro Bellissimo Mac Ecco fatto Questo era l'embozzing Per il Mac Mi mezzo a fuoco La pena Grazie per il Cid Vediamo Per il 99 Per la recezione Del Mac C'è Il Cid Il Cid Il Cid